Partenza regolare di questa prima batteria, Paneco 24, chiude con 10 e vesti, Ebba dei Stamalesi. Anche questa batteria partita in maniera regolare, vicinissime le due atlete. Chiude con 9 e 80, Alessia. Partenza regolare, partenza regolare, con la tese vicinissime. Anche la regola, ecco la regola. Credo, credo, credo che Alessia standing siccate i cordi. Ed è anche andato 9 e 42 a chiudere la sua batteria. Ed ecco partite le nostre atlete, vicinissime. Chiude Lucia con 9 e 81 la sua batteria. Andiamo sulla prossima batteria, abbiamo Viola del Gambiate, Giana del Bellusco e Carmela del Carmelo. E chiude Giana con il tempo di 10 e 06. Chiude Giulia del Cinisello con 10 e 40. Filde Cattu, Ludonica del Speedrunner Castano e Gaia dello Scati di Castano. Grazie a tutti. Chiude Ludovico con il tempo di seminari. Chiude, Ludovica in 9 e 97! Dimmiare, il valve chiamerà Matenter. Chiude, che è il tempo di mis Gleiche con il tempo di scatola Radio. Vicine anche loro, molto vicine, ma chiude, la numero 77 Giulia, pazienza a regolare, wow, stai a travolare ci fatti, chiude, Emma in nave e 85, pazienza a regolare, questa undicesima batteria, velocissima, chiude, viola col tempo di nave e 11, del Campo e Mariana del Petrusco, numero 39, con il tempo di 10 e 19, senza regolare, 315, Giorgia, chiude, 10 e 95, Velocissima, chiude, col tempo di nave e 41, un signor tempo, tecla, Giorgia, chiude, col tempo di nave e 2, gasta, chiude, col tempo di nave e 3, gasta, chiude, col tempo di nave e 3, gasta, chiude, pazienza a regolare, col tempo di nave e 4, gasta, chiude, pazienza a regolare,